amiche amici del corner sandoriano bentornati c'era tanta attesa tanta pressione sulla sandoria la vigilia di questo match dell'ora di pranzo del castellani prova superata a pieni voti e quindi all'entusiasmo per le prestazioni precedenti delle prime tre partite di campionato si aggiunge un'altra ottima partita della squadra di daversa supportata in questo caso anche dal risultato rotondo meritato raramente in discussione qualche spiffero qualche difficoltà qualche spiffero in difesa qualche difficoltà nella gestione l'abbiamo avuta nella prima parte di primo tempo ma poi con maturità perché alla fine la squadra lo dice anche la carta identità è una squadra matura siamo andati a prenderci questi tre punti a empoli ora la classifica si guarda anche se ovviamente siamo all'inizio ma la si guarda sempre e la si guarda ora con un po più di tranquillità in vista delle due partite teoricamente proibitive ma insomma questo campionato oggi il calcio ci insegna che non è detto ma anche la sandoria stessa già l'anno scorso queste queste partite qua insomma se se le andava a giocare mi riferisco a quella che arriva giovedì con il napoli amarassi e poi altro match dell'ora di pranzo domenica a torino contro la juventus dicevamo inizio difficile perché abbiamo un po ballato siamo un po andati sott'acqua e anzi inciso aspettatevi io mi aspetto qualche titolo di giornale domani con l'uragano caputo che si abbatte su empoli magari non lo fanno ma insomma io me l'aspetto siamo andati sott'acqua a centrocampo perché continuiamo ad avere questo schieramento molto sbilanciato molto coraggioso e spregiudicato l'hanno detto spesso anche in in cronaca con il mediano adri il silva a fare da schermo frangiflutti da mediano vero e proprio oggi andava spesso su bairami uomo teoricamente più pericoloso dell'empoli ad accendere quello deputato ad accendere la creatività la pericolosità dell'azione dell'empoli e quindi c'era adrile silva in questo ruolo torsby nella consueta posizione più di appoggio alla tre quarti offensiva che di invece protezione e di alleggerimento di insomma di di fase difensiva di non possesso davanti alla difesa più candreva e damsgard chiaramente molto offensivi e insomma le due punte damsgard è stato diciamo la sua zona di competenza è partito a sinistra poi si è spostato a destra quando era a sinistra è stato il principale punto debole della fase difensiva della samp perché lì stojanovic lo ha arato un paio di volte scappato qualche palla pericolosa è stata messa in mezzo da parte dei del terzino dell'empoli mancuso ha avuto l'occasione cutrone è stato pericoloso ma non ha graffiato lì abbiamo un po ballato e sono andati un po in imbarazzo yoshida e colli che alla fine invece però hanno portato a casa la solita prestazione solidissima festeggiando anche il secondo clean sheet consecutivo in trasferta la sandoria non ha preso gol in trasferta tra reggio emilia ed empoli bene e quindi quella è stata è stata la fase e la zona in cui abbiamo sofferto dopodiché parlando della difesa berecinski solita ennesima prestazione di grande solidità di lucidità in fase propositiva suo il pallone messo per caputo per il gol del 2 a 0 approfittiamo per visto che ci siamo due paroline sul caputo anche se sarà evidentemente il più celebrato insieme a candreva di questa partita due gol di sinistro che teoricamente non è il suo piede forte ma alla faccia del piede debole perché il primo gol lo ha detto anche lui nell'intervista post partita con velocità per anticipare intervento di difensore e portiere quindi da personaggio che l'area del rigore la frequenta come fosse il salotto di casa e il secondo è una perla secondo una perla vera e propria perché finta e proprio questo fatto di poter calciare col destro col sinistro lo rende molto credibile quando punta in uno contro uno difensore avversario di fronte c'era l'uperto forse non il più forte difensore della serie a però comunque finta ad andare sul destro tiro col mancino sul secondo palo a scrivere 2 a 0 quindi bene caputo a smorzare parzialmente il tema che stava lievitando in merito all'attacco della sandoria cioè non segnano gli attaccanti adesso ci sorbiremo penso una settimana o due tre giorni di non segna quagliarella comunque molto molto bene caputo dicevamo di berezinski che l'ha innescato altra partita in cui forse quello dei difensori che brilla meno è tommaso augello che comunque comodamente sufficiente notava un dato e cioè rispetto all'anno scorso in media augello crossa esattamente la metà ora una media di due cross a partita oggi ne ha fatti tre e con ranieri l'anno scorso media praticamente di quattro a partita ma insomma lo vediamo partecipa più alla manovra è abbastanza solido sempre in fase difensiva abbiamo detto del centrocampo silva secondo me partitone molto bene dal quando è rientrato abbiamo capito quindi quali sono le coppie anche livello di sostituzioni ne ha due per ruolo da versa silva o ecdal e torsby titolare secco con però a schilzen che piano piano sta scalando un pochino sta guadagnando un po di punti nella fiducia del mister abruzzese e inizia ad avere insomma diritto di parola centrocampo perché oggi è entrato in un momento in cui la partita non era ancora chiusa si è preso il giallo per un intervento ritardo mi sembra un po il suo un suo classico in questo partite non è il primo giallo che prende però è anche sintomo di voglia di diciamo spregiudicatezza nel tentativo di recuperare palloni poi ci arriva in ritardo e giallo ci sta però bene a schilzen nella nella gestione damsgard un pochino meglio al netto del discorso difensivo in cui è andato un po in difficoltà nel primo tempo di cui abbiamo già detto ha avuto anche un'occasione per segnare un po debole suo tiro allungato in calcio d'angolo da vicario prestazione maiuscola di candreva che in questo momento è l'uomo che fa la differenza perché se caputo finalizza candreva crea e lo fa con questa autonomia che già gli lasciava ranieri e gli concede anche da versa di scegliersi comodamente la posizione è un rebus difficile spesso da risolvere per le difese avversarie perché tante volte lo andiamo lo vediamo andare a sinistra pur con damsgard che ci gioca pure a sinistra quindi fa il fantasista fa il centrocampista tutto campo per l'assoluta il suo assist per caputo perché una palla da giocatore vero si stavano stringendo le maglie dell'empoli ci si poteva aspettare un'apertura più larga lui invece ha forzato la giocata quella che i telecronisti a volte un po abusando chiamano imbucata però in questo caso credo lo fosse un imbucata e per l'assoluta ovviamente il tiragiro con l'effetto sul secondo palo per chiudere definitivamente nel punteggio la partita questione quagliarella detto che appunto non credo ci sia nel senso non c'è una questione quagliarella semplicemente non sta segnando come avevo già detto sarei curioso di sapere se questa sua libertà concessa gli dà caputo questa sua maggiore libertà rispetto all'anno scorso in cui l'abbiamo tanto tante volte visto essere unico terminale quindi offensivo e quindi subire tante attenzioni da parte dei difensori avversari lo rende più felice di giocare o meno forse a qualche occasione in meno perché non è l'unico terminale offensivo un tiro in porta oggi se non ricordo male e non di più ma comunque una prestazione sempre utile alla squadra a proposito di subentri abbiamo detto di haskilzen abbiamo detto anche di ekdal che quando entrato ha fatto bene entrato anche torregrossa ed è entrato anche de paoli è entrato anche chabot così diciamo tutti sono entrati tutti a dare il loro contributo chi più chi meno quest'anno abbiamo una rosa un po più lunga l'altro anno ci lamentavamo di non avere i terzini di riserva quest'anno abbiamo de paoli che può fare diversi ruoli e abbiamo murro che può fare il vice augello anche in vista della gara di napoli che arriva tra tre giorni sono curioso di sapere che scelte farà da versa perché diciamo il punto debole il talone d'achille del nostro attacco che al momento sta rendendo cioè ci sta facendo sognare per i personaggi che ci sono davanti e che ora hanno anche iniziato a segnare è la carta d'identità quindi saranno in grado di giocare di nuovo dall'inizio tutti e due giovedì chissà torregrossa mi sembra ancora un pochino in fase di rilancio ma non lo vedo ancora brillante lo vedo un po pesante subentrato contro l'inter subentrato oggi con l'empoli ha preso un cartellino giallo abbastanza gratuito secondo me non è pronto per partire dal primo minuto ma magari mi sbaglio magari farà fare un'ora sempre a quagliarella e caputo dall'inizio poi ne toglierà uno vedremo De Paoli è entrato correndo sacrificandosi ma non è all'altezza dei titolari ecco questo mi sembra abbastanza chiaro è un'ottima riserva è un giocatore che può dare il contributo quando quando subentra intanto anche Chabot che comunque è stato credo messo proprio in risposta alla mossa di Andrea Zoli che ha messo la mantia giocatore molto alto quindi molto cercato con i palloni lunghi bene entusiasmo francamente difficile da contenere perché come detto grande attesa grande pressione tutti penso c'erano molti pronti erano pronte le critiche nel caso in cui non avessimo fatto risultato a empoli e sarebbe stato facile ritornello le prestazioni sì ma servono i risultati oggi il risultato arrivato convincente rotondo bene così andiamoci a giocare queste due partite così capiremo che cosa ci aspetta in questo campionato della Sampdoria aspetto anche i vostri commenti qui sotto per sapere che cosa ne pensate però penso che siamo tutti d'accordo ci stiamo divertendo bravo Roberto D'Aversa fin qui e bravi i ragazzi della Sampdoria grazie e soprattutto chiudo così piro e contento con un bel ciao Ciao